Milanese di origine campana ha debuttato come attore nel 1996, recitando nella sitcom di Canale 5 Io e la Mamma, al fianco di Gerry Scotti e Deglia Scala, interpretando il loro ruolo di Paolino per due stagioni. Nel 1996 ha inoltre recitato nel cortometraggio Il Soffitto, per La reggia di Barbara Nava, e per questa interpretazione è stato premiato come miglior attore al Festival del Cinema di Messina. Nel 1999 è tornato in televisione, sempre su Canale 5 e sempre con una sitcom, Don Luca, dove ha interpretato il ruolo di Mirko per due stagioni. L'anno successivo ha debuttato al cinema interpretando una piccola parte nell'ultimo film della saga fantoziana, Fantozzi 2000 La clonazione, in cui ha interpretato il ruolo di un bambino abbandonato dai genitori troppo occupati con il lavoro. Nel 2001 è tornato a recitare in una sitcom, Bradipo, andata in onda su MTV Italia. Dopo tre anni di pausa, ha interpretato una piccola parte nella sitcom Il Mammo, con Enzo Neachetti e Natalia Estrada. Nel 2006 ha debuttato anche come conduttore televisivo, per la trasmissione musicale Destinazione Kid Choice Awards di Nickelodeon. L'anno successivo ha interpretato il ruolo di Jackie nel telefilm per ragazzi Quelli dell'Intervallo. Mentre nel 2010 ha ottenuto una parte nel film di Massimo Boldi a Natale Mi Sposo, sempre nello stesso periodo ha fatto alcune apparizioni nelle serie televisive Fiore Tinelli e Zac e Cody sul ponte di comando. E nel video musicale del brano Grazie a te, di Ambra Lofaro, nel 2011 è stato uno dei protagonisti della serie televisiva di Canale 5 Non smettere di sognare. Nella parte di Filippo, nell'estate dello stesso anno conduce, sull'emittente satellitare Dea Kids, arriva lo zecchino, trasmissione itinerante che mostra i provini per l'edizione 2011i dello zecchino d'oro. Ultimamente si è un po' eclissato dalle scene.